Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa terza parte del nostro modulo di diritto ed economia. Oggi affronteremo la terza parte che abbiamo denominato Nudging and Libertarian Paternalism, cioè nudging, che è un termine che adesso cercheremo di precisare, e il paternalismo libertario. Il paternalismo libertario, originariamente nato come paternalismo libertario, ma poi per ragioni anche editoriali di un famoso testo di Thaler e Sunstein, Thaler è stato premio Nobel dell'economia, e Sunstein è un famoso giurista, diedero questo titolo Nudging e questo titolo di fatto poi si impose. E in un certo senso oggi quando si parla di libertarian paternalism o nudging spesso si usa il termine nudging inglobando con questo termine anche libertarian paternalism. Adesso ho diviso sostanzialmente questa lezione in tre parti, a differenza della precedente che l'avevo divisa in quattro parti, quindi quando scorrete le slide sappiate che la lezione appunto è sempre con la numerazione 3.1, 3.2, 3.3. Allora, innanzitutto di cosa ci occuperemo? In generale in queste tre sottoparti della lezione 3, o della lezione su Nudging e Libertarian Paternalism, cominceremo con le nozioni fondamentali, cioè gli esempi e le applicazioni, e le tratteremo tutti assieme, a differenza di altri casi in cui ho scorporato la parte relativa alle applicazioni. Perché? Perché, come vedremo fra un attimo, questo approccio è stato uno degli approcci di maggior successo degli ultimi almeno dieci anni. In verità, la teoria del nudging e del libertarian paternalism risale a questo paper, questo articolo fondativo del 2003, scritto ancora una volta da Susten e Thaler. E poi diedero luogo a questo famoso libro, questo libro scrissero, questo libro Nudge, in inglese il sottotitolo è Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, cioè migliorando le decisioni, migliorare le decisioni relative alla salute, al benessere in generale, ma anche alla ricchezza e alla felicità. Nella seconda parte cercheremo invece di mostrare, faremo quasi un passo indietro, almeno dal punto di vista cronologico, relativamente al modo in cui questa dottrina cerca di giustificare la regolamentazione degli interventi di tipo paternalistico. e quindi cercheremo di analizzare quali sono i fondamenti empirici, la psicologia ed economia comportamentale in particolare, che sono spesso richiamati anche per cercare di legittimare questo tipo di interventi regolamentativi o regolativi. E infine, come sempre, ci soffermeremo e chiuderemo sulle critiche e i limiti. Oggi vedremo prima di tutto, partiremo dalle nozioni fondamentali. Qui ne ho elencate cinque, ce ne sono diverse, ma ho provato a raggrupparle in questi cinque sottogruppi. L'antipaternalismo, il paternalismo libertario, l'architettura delle scelte, nudging e politiche di nudging, per darvi appunto qualche esempio di caso o di modalità in cui queste politiche sono state implementate all'insegna appunto di politiche regolamentative lato sensu, e poi un'ulteriore precisazione importante per capire meglio in che cosa consiste questo paternalismo dei mezzi e dei fini, a sua volta ulteriormente distinto in paternalismo forte e paternalismo debole. Sono quattro categorie che dovremmo precisare per capire di che tipo di paternalismo si tratta. Però prima di parlare di paternalismo è appunto necessario ripartire da uno dei pilastri del pensiero liberale occidentale, cioè l'idea di antipaternalismo. Che cos'è l'antipaternalismo? L'affermazione, se volete, il luogo per eccellenza in cui andare a cercare il più grande, più famoso difensore del, diciamo, o se volete critico, scusate, delle politiche paternaliste è Joshua Mill, la sua appunto è un'istanza antipaternalista. Il paternalismo può essere inteso anche in un senso kantiano, se volete, non c'è bisogno di citare solo Joshua Mill nel famoso testo On Liberty, perché il paternalismo è visto male da chiunque abbia, in qualche modo, esaltato anche luministicamente la ragione o l'uso, diciamo, della ragione per, diciamo, lo sviluppo dell'uomo da tutti i punti di vista. Ora, il nostro Stuart Mill, in questa famosa citazione, scrisse Il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è per evitare danno agli altri. Il bene dell'individuo, sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché, nell'opinione altrui, è opportuno o perfino giusto. Questi sono buoni motivi per discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o per punirlo in alcun modo, nel caso si comporti diversamente. Perché la costrizione o la punizione siano giustificate, l'azione da cui si desidera distoglierlo deve essere intesa a causare danno a qualcun altro. Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto la società è quello riguardante gli altri. Per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è di diritto assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano. Che cosa ci dice Joshua Mill con questo famoso passo appunto tratto da On Liberty? Che l'individuo appunto è sovrano su se stesso, l'individuo è il miglior giudice di se stesso. Dire che l'individuo è il miglior giudice di se stesso vuole anche dire che ciascuno deve essere lasciato libero di sbagliare, errare e fare i propri piani di vita, appunto anche sbagliando e imparando appunto dai propri errori. Allora cominciamo a capire che cosa vuol dire paternalismo. L'atteggiamento paternalista è l'atteggiamento di colui che ci tratta, come si dice, dalla culla alla tomba, di quel padre eccessivamente paterno che prendendoci dalla culla alla tomba ci vuole guidare passo passo fino alla fine, ma non ci lascia appunto liberi di fare i nostri piani, sbagliare eccetera eccetera. Di questa citazione due cose sono particolarmente importanti per arrivare a spiegare in che senso si possa parlare di libertarian paternalismo o paternalismo libertario. Innanzitutto questa tesi di John Stuart Mill è anche nota come principio del danno o principio di libertà di Mill. Se la leggete e rileggete molto attentamente noterete appunto questo passo in cui John Stuart Mill, che prima ho tra l'altro enfatizzato, cerca una giustificazione alla coercizione statale. Cioè, a che titolo ho stato a potere di coartarmi? È un problema ovviamente filosofico giuridico enorme. Beh, dice John Stuart Mill, se e solo se la mia azione rega danno ad altri. Ora, John Stuart Mill ha fornito diversa giustificazione a questa tesi e al valore della libertà in generale. Il libertarian paternalism si concentra soprattutto sull'argomento epistemico, cioè l'attacco che il libertarian paternalismo rivolge alla tesi di John Stuart Mill è la parte di quell'argomento di Mill che, abbiamo detto prima, può essere espressa in questi termini, che ogni individuo è nella posizione migliore per sapere, in questo senso è un argomento epistemico, per sapere che cosa è bene per lui e quindi per identificare i propri fini e i mezzi migliori per raggiungerli. Ora, facciamo un'introduzione per cominciare a capire l'attacco che questi, almeno i due principali esponenti che abbiamo citato all'inizio, Susten e Thaler, rivolgono all'idea di antipaternalismo. Qui vedete due immagini in cui, diciamo, un caso tipico di mensa, mensa scolastica, ma pensate anche altri tipi di mensa, e immaginate di essere il direttore di un servizio di mensa scolastica che fornisce cibo a diverse scuole. In che modo voi organizzereste la disposizione del cibo? La domanda non è peregrina, perché quello che loro vogliono mostrare con questo esempio è che una certa dose di paternalismo è inevitabile. Perché? Proviamo a spingere l'esempio un po' più in là. Loro ci dicono, in questo famoso testo, nel mio articolo che avete anche in lettura per questa parte, cito di meno di esempi, ma questo è un esempio tratto appunto dal testo Nudge. Immaginate di poter, prima opzione, sistemare il cibo in modo da rendere gli studenti migliori, il lato senso, cioè da fargli stare bene, in qualunque caso possibile, ma considerando anche tutte le possibili altre opzioni. La seconda opzione che avete è quella di scegliere il cibo in maniera casuale. La terza è provare ad arrangiare, o arrangiare, scusate, a sistemare, a organizzare, disporre il cibo affinché i ragazzi, diciamo, vadano a pescare, a seconda della vostra esposizione, organizzazione spaziale del cibo, vadano a scegliere proprio quel tipo di cibo che loro sarebbero in grado di scegliere da se stessi, secondo ciò che loro giudicano meglio per se stessi. Quarta opzione, potreste addirittura scegliere di disporre il cibo in maniera tale da massimizzare le vendite di tutti i prodotti della vostra mensa, ma attenzione, massimizzare le vendite, quindi il vostro profitto, che è condizionato però dalle scelte che vi impongono i vostri fornitori a seconda delle mazzette che vi pagano. Quinta e ultima opzione, si potrebbe scegliere di disporre il cibo semplicemente in nome di un principio di profitto puro e semplice. Ora, se cominciassimo a chiederci qual è l'opzione migliore, perché è qui che ci vogliono portare i nostri due Tyler e Sunstein, allora se le rileggiamo attentamente ci accorgiamo subito che la prima uno potrebbe dire sì certo è un po' intrusiva paternalistica perché tu stai scegliendo il cibo in funzione di quello che ritieni per esempio più salutare per i ragazzi. Però dicono loro, attenzione, che le alternative potrebbero essere persino peggiori. La seconda scelta, cioè quella casuale, è apparentemente neutrale e certamente in un senso puramente statistico lo è, però potrebbe distribuire, proprio perché è casuale, diete meno salutari in alcune scuole. La terza opzione potrebbe essere certamente più neutrale, ma nel senso di, come dicevamo, disporre il cibo in maniera tale che venga mostrato, organizzato, per esempio prime cibi salutari, poi quelli più grassi, eccetera, ma è una scelta quasi impossibile da realizzare perché bisognerebbe conoscere tutte le preferenze di ogni singolo studente per poterle soddisfare. La quarta, è ovviamente un caso di corruzione e quindi non ha bisogno di essere ulteriormente commentata, nel senso che, a meno che uno non è corrotto, appunto è una scelta da scartare in quanto certamente non migliore. La quinta, posto che sia possibile secondo le regole in vigore per le menze scolastiche, potrebbe implicare il distribuire diete meno salutari. Questo ovviamente è un ulteriore problema. La conclusione a cui, diciamo, si trova di fronte il direttore è che, in un certo senso, se valuta tutte queste opzioni attentamente, non può evitare una qualche forma di paternalismo. E in secondo luogo, lui è quello che i nostri Tyler e Susten definiscono una sorta di architetto delle scelte. Cercheremo adesso di precisare che cosa vuol dire architetto delle scelte. Fra un po'. Proviamo però, prima di entrare nel dettaglio, a dare una definizione di questo libertarian paternalism, o paternalismo libertario. È ovviamente un'espressione che, come accennavo all'inizio, è stata coniata dai nostri due Tyler e Susten, che d'orinnanzi troverete abbreviati come TNS. E venne, diciamo, venne introdotta in questo paper di cui vi parlavo del 2003. E poi, ovviamente, è stata quasi sostituita, ma continua ad essere utilizzata dalla parola naggi. Ora, l'idea di paternalismo libertario esprime l'idea che sia possibile e legittimo che le istituzioni pubbliche e private influenzino il comportamento delle persone rispettando al tempo stesso la loro libertà di scelta. Quindi l'approccio del paternalismo libertario muove da una critica all'antipaternalismo fondata sui risultati della psicologia ed economia comportamentale. Tutti i punti che adesso cercheremo di precisare in questa prima parte, nella seconda e poi nella terza. Cerchiamo innanzitutto di capire perché il paternalismo libertario è anzitutto paternalista. E' paternalista perché cerca di influenzare o guidare le scelte delle persone per il loro bene o in modo da aumentare il loro benessere, così come giudicato da loro stessi. Questa è un'espressione fondamentale per capire in che senso anche non sarebbe illiberale. Cioè non intendono, dicono almeno i nostri, non intendono sostituirsi alle scelte degli individui. cercano solo di pungolarle ma senza sostituirsi a queste scelte. Pungolarle, influenzarle o guidarle. In vista tra l'altro del loro bene. Un bene che appunto non sono loro a dire che cosa è bene per me o voi o chiunque sia. Ma loro dicono voi sapete già almeno in teoria che cosa è bene giudicato da voi stessi, ma come vedremo fate degli errori nel perseguire i vostri obiettivi, i vostri fini. Il nostro obiettivo è quello di aumentare il vostro benessere. E ripeto, un benessere giudicato come voi stessi ritenete sia o debba essere la vostra idea di bene o di benessere. Ed è libertario perché cerca appunto di preservare la libertà di scelta, mirando a garantire che le persone siano sempre libere di scegliere diversamente se vogliono farlo. Cioè non coartano la scelta, non la riducono dentro un binario e quindi, a meno, stando a quello che dicono Tyler e Susten, è libertario nel senso che comunque preserva la libertà di scelta. Ora, provo a darvi un quadro sintetico delle principali tesi del paternalismo libertario. L'antipaternalismo, dissero, e qui sono citazioni che traggo da questo articolo del 2003, l'antipaternalismo si basa su un assunto falso, punto A, e almeno due idee sbagliate, punto B1 e punto B2. Vediamole un po' più nel dettaglio. Il punto A, cioè qual è il falso assunto dell'antipaternalismo? Dov'è che Joe Stuart Mill sbagliava? Noi eredi di Joe Stuart Mill sbagliamo. Il falso assunto è che le persone facciano scelte che sono sempre, si chiedono loro di solito, nel loro miglior interesse. La psicologia e l'economia comportamentale hanno dimostrato che questo assunto è falso. Secondo punto, dov'è, o punto B1, dov'è l'idea sbagliata dell'antipaternalismo? È che secondo l'antipaternalismo ci siano valide e praticabili alternative al paternalismo. In molti casi il paternalismo, dicono loro, è invece inevitabile. I soggetti pubblici o privati devono fare scelte che condizionano inevitabilmente le scelte di altre persone. E questo ci riporta all'esempio della mensa scolastica da cui eravamo partiti, dove, come avete visto, almeno loro cercano di dimostrare che una certa dose di paternalismo è oggettivamente inevitabile. Punto B2. La seconda idea sbagliata è che il paternalismo implichi sempre la coercizione. Se coercizione significa forzare qualcuno a fare qualcosa, allora, ricordate ancora l'esempio della mensa, si può dire ad esempio che lo studente sia forzato a scegliere qualcosa, cioè è un atto coercitivo il disporre il cibo in un certo modo. E poi si chiedono ancora loro, ma sarebbe forse diverso se gli utenti del servizio mensa fossero adulti. Perché è ovvio che con l'esempio della mensa abbiamo di fronte dei bambini, allora forse ci viene subito da pensare a un atteggiamento un po' paternalista, ma immaginate che gli utenti siano adulti e loro dicono non cambierebbe nulla, perché comunque non possiamo evitare di disporre il cibo in un certo modo e quindi influenzare a seconda di come il cibo è esposto, ad esempio mettendo i cibi più grassi all'inizio e quelli più dietetici alla fine, o viceversa, comunque influenzeremo le scelte delle persone, oppure mettendo alcuni cibi più importanti o salutari ad altezza d'occhio o a portate di mano, comunque influenzeremo le scelte anche degli adulti. Ecco che loro dicono che secondo loro qualche forma di paternalismo dovrebbe essere accettabile anche per il più fervente libertario. E se il paternalismo è inevitabile, allora la questione rilevante è come scegliere tra diverse politiche paternaliste, ne vedremo adesso alcune fra un po'. Preciso l'ultima nozione, prima di entrare un po' più nel dettaglio di queste nozioni fondamentali, ne manca ancora qualcuna, ma adesso cominceremo anche a vedere qualche esempio. L'architettura della scelta l'avete già vista con l'esempio della mensa e quando io dispongo come direttore il cibo in un certo modo io, secondo i nostri Tyler e Susten, sono un architetto delle scelte. Ora, in un senso più preciso, l'architettura delle scelte è lo sfondo sul quale le scelte sono compiute. Immaginate ancora una volta la mensa. La scelta lì è guidata dal contesto, dal modo in cui i cibi sono disposti nello spazio e anche nel tempo, se volete, visto che la mensa è un percorso da fare, quindi magari i primi cibi possono essere scelti in un modo, oppure pensate a quel tipo di acquisti modello last minute che trovate anche al supermercato prima di arrivare alla cassa, dove ci sono degli espositori fatti apposta per pungolarvi a fare alcune scelte un po' last minute. E secondo loro è un'architettura che in quanto è inevitabile, pervasiva ed inevitabile, esercita appunto anche una grande influenza sui nostri risultati, cioè sui risultati, scusate, delle nostre scelte. Allora, chi è questo architetto delle scelte? Secondo loro è colui che appunto, nell'esempio della mensa, dispone degli oggetti nello spazio, ma in verità la nozione viene allargata, molto, l'esempio della mensa è solo un esempio, viene allargata a diversi ambiti, come vedremo. Che cosa vuol dire allora in un senso più tecnico per come lo definiscono loro l'architetto delle scelte? È che il decisore, pensate al decisore pubblico, non fa scelte nel vuoto. Le fanno sempre in un ambiente dove, con molte caratteristiche, più o meno notate, notate o non notate, che possono influenzare le loro decisioni. E le persone che creano quell'ambiente, quell'ambiente in cui le nostre scelte vengono esercitate, è nella nostra terminologia, dicono, un architetto delle scelte. Qui si aprono poi tutta una serie di questioni che richiederebbero altri approfondimenti, mi limito solo a, come dire, a seminare qualche domanda, qualche dubbio che loro stessi in verità cercano di seminare anche nei confronti, anche e soprattutto nei confronti di coloro che li hanno comunque tacciati di essere paternalisti. Allora loro dicono, ma se l'architettura delle scelte è inevitabile, le violazioni del principio del danno, alla mille, potrebbero essere inevitabili? Prima questione. Loro ritengono di no, cioè non è che perché, diciamo, c'è un ambiente che determina le nostre scelte, allora c'è già un infringement, c'è già una violazione del principio del danno. Seconda questione, a che titolo gli architetti delle scelte, compresi quelli che operano nella sfera pubblica, dovrebbero essere autorizzati a pilotare le nostre decisioni? Fino a che punto tali interventi sono inaccettabilmente paternalistici? E ovviamente poi c'è la grande questione che ci portiamo sin dai tempi di Platone, chi controlla il controllore? Ci torneremo almeno su quest'ultima, nella parte dedicata alle critiche al paternalismo libertario. Fissiamo un altro punto importante su cui torneremo nella seconda parte, cioè i fallimenti del mercato comportamentale. Che cosa vuol dire? È un'espressione di Susten, il giurista attualmente uno dei giuristi più citati in assoluto. Secondo Susten, i fallimenti del mercato comportamentale dimostrano che l'argomento epistemico non è sempre vero, l'argomento di Joe Stuart Mill, che abbiamo richiamato prima, secondo il quale ciascuno è il miglior giudice, sa sempre, sa, in questo senso epistemico, cioè a che fare con la sua conoscenza, sa cosa è meglio per lui. Se questo non è vero, e poi cercheremo di spiegare perché, quali sono i fondamenti empirici e psicologici di questa affermazione, secondo Susten, sono proprio questi fallimenti del mercato comportamentali, che preciseremo fra un attimo, che giustificano alcune forme di paternalismo e di regolamentazione soft, come esempio di i cosiddetti nudges, cioè le spintarelle che adesso fra un attimo preciseremo. La conclusione, ma è una conclusione che in verità ho messo qui, ma su cui torneremo di nuovo, questa è una slide proprio di snodo, diciamo così, quindi bilancia ulteriori input. La conclusione di Susten è che prima e unica legge della regolamentazione comportamentale e informata è questa, cioè di fronte ai fallimenti del mercato comportamentali, le spinte gentili sono solitamente la migliore risposta, almeno quando non c'è alcun danno per gli altri. Adesso si tratterebbe di precisare tutte queste espressioni, questa slide appunto è molto densa, diciamo così. Cominciamo con la parola chiave, il nudge, una parola a volte un po' difficile da tradurre come spinta gentile, qualcuna tradotta come colpetto, spintarella o pungolo. È emblematica l'immagine che i nostri due eroi, Tyler e Susten, mettono in copertina del loro libro. Uno dei libri che tra l'altro negli ultimi anni, anzi non è uno dei, ma è il libro che, almeno in ambito di economia, ha venduto di più in assoluto, è diventato una specie di best seller. In copertina trovate questa immagine della madre elefantessa che con la proboscide dà una spintarella al figlioletto riottoso. Allora, in questo senso quello sarebbe un nudge, cioè lo pungola ad esempio magari andare in una certa direzione o a muoversi o a fare qualcosa in particolare, ma ovviamente non conosciamo il linguaggio, diciamo, degli elefanti. Perché è un pungolo? In questo senso sarebbe gentile, notate, libertarian paternalism, cioè sì paternalismo, ma vuole mantenere, l'abbiamo detto, un certo grado di libertà di scelta, almeno una scelta, come vedremo, sui mezzi, ampia e soprattutto sui fini delle nostre azioni. Allora, il nudging è definito come un intervento soft che pungola gli umani e non gli icons verso scelte che sono buone per loro, come abbiamo detto, come giudicato da loro stessi. Tutti termini che qui richiedono ulteriori precisazioni. Ma su questo ci torneremo. Adesso voglio cominciare a darvi un po' di esempi per capire, prima ancora di capire fondamenti empirici di questo approccio, quanto è stato influente questo tipo di discorso negli ultimi vent'anni. Quando si parla di politiche di nudging si intendono tutti quei vari tipi di intervento, continuo a usare la metafora della cassetta degli attrezzi, i vari tipi di intervento del paternalista, che possono essere dalle strategie comunicative o informative, note anche come disclosure, oppure regole di default, con cui influenzare i motivi e gli incentivi insiti nel processo decisionale di gruppi e individui, almeno con la stessa, se non addirittura maggiore efficacia, della legislazione basata su comandi e sanzioni, o legislazione volta da ristruzioni dirette, o addirittura coercizione o adempimento forzato. Cioè il vantaggio, secondo loro, di queste politiche di nudging è che appunto non sono sicuramente coercitive e che addirittura sarebbero anche più efficaci di un certo tipo di legislazione. Cominciamo con un esempio che forse vi farà schifo, ma è un esempio molto particolare, uno è diventato famoso proprio perché probabilmente fa schifo, è l'esempio di questo fly in Ureland Trials, è un caso reale, attenzione, non è una storiella, lì vedete un urinatoio presso lo Schiphol Airport di Amsterdam. Fecero questo esperimento, disegnarono una mosca, dentro quell'urinatoio tipicamente maschile, per mostrare e per vedere se ad esempio l'uomo, nel momento in cui di fare quello che sapete, magari si concentra su quella mosca e evita, diciamo, di farla fuori. Ora, l'esperimento era stato fatto molto parlare di sé perché ovviamente era stato di grandissimo successo, cioè riduce la fuoriuscita di urina dell'80%. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo è un modo di, diciamo, di stogliere l'attenzione, o perlomeno di, anzi, potremmo dire l'esatto contrario, cioè di aumentare la concentrazione sulla base di alcune informazioni salienti dell'ambiente che circonda il soggetto che in questo caso si trova a fare, diciamo, una scelta. Adesso molto banalmente potremmo dire farla fuori o farla dentro, ma questo esempio, insomma, ha fatto più ridere che altro, ma indica come anche le azioni più banali e quotidiane possono essere influenzate architettando un certo tipo di ambiente in maniera tale che il soggetto, a beneficio in questo caso non tanto di se stesso, ma almeno di chi fa le pulizie, o anche del risparmio economico per pagare chi fa le pulizie, viene quindi sicuramente influenzato dal contesto. Passiamo ad esempio un po' più seri. In verità si può fare un'ulteriore premessa dicendo che, guardate, che la legislazione paternalista, quella veramente paternalista, prima ancora del paternalismo libertario, esisteva già, il caso emblematico è quello delle cinture di sicurezza, o quelle norme che appunto impongono l'uso del casco, o le norme sulla sicurezza alimentare, o sulla sicurezza dei lavoratori, la tutela dei consumatori e così via. Altri casi di politiche famose, che in qualche modo o in un altro, sono state influenzate da una certa idea di libertarian paternalism on aging. Le campagne contro il fumo, la tutela dei consumatori, l'efficienza energetica, sono tutte tecniche che sono volte a influenzare le decisioni, in questo caso dei consumatori, o diciamo dell'agente economico, al lato senso, ma influenzare, dicono loro, per fini di bene, per esempio le donazioni filantropiche, o le donazioni di organi, o i casi di tax compliance, di cui parlo anche nel testo. Qui trovate un'altra slide, che lascio alla vostra lettura, di varie politiche che sono state, all'insegna della cosiddetta behavioral economics, che è il background empirico, di cui vi dirò, il background empirico del libertarian paternalism, e sono solo alcuri, ma la lista delle applicazioni che il libertarian paternalism ha dispiegato, grazie alle sue teorie, è veramente infinita. Quindi questa ve la lascio appunto, potete stoppare e vederla con più calma. Per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando anche a livello governativo, tenete presente che le cosiddette nudge unit sono nate, prima, nel caso più emblematico, sotto il governo Cameron, la primissima nudge unit, nota anche come Behavioral Insight Team, diretta da questo David Halpern, che poi ne ha scritto anche un libro, che vedete in alto a destra, e poi la seconda, certamente più famosa, quella dell'Office of Information and Regulatory Affairs, sotto il governo Obama, e tra l'altro guidata proprio da Cass Sunstein. I due pare che siano amici, qui vedete una foto che li raffigura, ma queste sono state solo quelle più famose, addirittura ci sono molte istituzioni come l'Organizzazione per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Comunità Europea, che ormai raccomandano anche di adottare politiche ispirate ai risultati dell'economia comportamentale. O, qui anche un'altra slide che vi lascio per il vostro desiderio di approfondimento, pensate alle politiche energetiche, dove in questo caso la citazione che trovate in basso è tratta da un documento del Ministero dei Trasporti americano, che Sunstein cita in un altro libro, in cui si fa proprio esplicito riferimento all'idea, tutte le scoperte derivanti dalla psicologia dell'economia comportamentale che i nostri due eroi hanno poi trasformato in libertà e in paternalismo. E quindi potete anche qui stoppare e leggervela con calma. Ultimo punto teorico importante sono queste due nozioni, o meglio l'incrocio di quattro concetti, paternalismo dei mezzi, paternalismo dei fini, paternalismo debole e paternalismo forte. Questo serve per precisare in che senso il paternalismo libertario sostenuto da Sassen e Thaler sarebbe appunto libertario. Il paternalismo dei mezzi cerca solo di influenzare le scelte degli individui relative ai mezzi, quindi non ai fini, per esempio indirizzando le loro scelte verso elettrodomestici efficienti, se il loro fine è quello di risparmiare denaro. Il paternalismo dei fini invece influisce direttamente sui fini attraverso obblighi o divieti, per esempio vietando determinati comportamenti sessuali. Il paternalismo debole mira a preservare la libertà di scelta, l'esempio classico sono le campagne informative, gli avvertimenti, le regole di default, di cui parleremo anche dopo. Il paternalismo forte ricorre alla coercizione, per esempio la multa o la condanna ad una pena detentiva. Le politiche di nudging, e questa è la loro precisazione, rientrano generalmente nella categoria del paternalismo dei mezzi e del paternalismo debole e sarebbero quindi, secondo loro, compatibili, almeno nella maggior parte dei casi, con il principio del danno, nel senso che non lo violano. E quindi, se io definisco nudging libertarian paternalism in termini di paternalismo dei mezzi e paternalismo debole, secondo loro appunto siamo ancora in un ambito liberale e non illiberale.